ragazzi buongiorno qui abbiamo un altro volante da ripristinare guardate com'è brutto e anche questa spalletta qua da riverniciare guardate la situazione del volante smontato il colore che è andato via guardate Buon appetito. Il volante è finito, riverniciato, molto piacevole al tatto, è stato un volante abbastanza rovinato, abbiamo fatto il possibile di riportarlo a nuovo, ci siamo riusciti e anche qui questa spalletta qua l'abbiamo riverniciata e abbiamo salvato anche il colore delle cuciture.